Macchina che prende velocità ulteriormente, lascia i concorrenti. È partito l'Europeo 2018. L'errore di Tango Negro, quattro su di una linea, dall'interno Uragano 3B a Razzi Bocco, testimonia all'ok e Tessa Obisonic insiste a Razzi Bocco su Uragano 3B e i due si danno di bella nella prima 200 metri. L'errore e la squalifica per Satana Sofi. Lancio in 13,7 Uragano 3B. È riuscito a tenere la figura a sinistra di Razzi Bocco che parcheggia al centimetro avanti e ha testimoni all'ok. 400 iniziali di puro fuoco in 27,9 da 1,10 scarso al chilometro. Uragano 3B in vantaggio nei confronti di Razzi Bocco, gruppo che si forma a Pariglie con Deimos Racing che ai 643,8 progredisce gradualmente all'esterno. Le sue mosse seguite da Tessa Obisonic, terzi in corda e testimonia all'ok avanti a Pantera del Pino. Poi Tarim, ancora la coppia formata da Tina Turner e Ulena Cara. La retroguardia del gruppo Tango Negro dopo l'errore iniziale. 58 spaggato gli 800, non lesina l'andatura. Uragano 3B nonostante il 30 di seconda frazione. A destra dette, Deimos Racing è in tasca a Razzi Bocco. 1,12,5 il chilometro iniziale con Deimos Racing che insiste a lato di Uragano 3B. A Razzi Bocco che in attesa degli eventi, seconda pariglia di fuori Tessa Obisonic che però non riesce ad andare ancora a lato dei primi, ai tre quarti miglio in 1,26,3 dove Deimos Racing è preponderante nei confronti di Uragano 3B. Dalla corda viene via a Razzi Bocco, poi per le vie brevi testimonia all'ok. Deimos Racing è passato nei confronti di Uragano 3B in open stretch, testimonia all'ok. All'argo a Razzi Bocco, a Razzi che rimonta tutti, a Razzi Bocco che vince davanti a testimonia all'ok. Al terzo Deimos Racing, 1,54,8 il totale, 28,5 gli ultimi 4, 1,11,4 la media al chilometro. Va in finale a Razzi Bocco, ale goccia d'oro da favoriti ma in un cliché tattico completamente diverso rispetto a quello che era lecito aspettarsi, guadagna tre quarti di lunghezza nel finale nei confronti di testimonia all'ok che avrebbe approvato tutto in open stretch. Al terzo Deimos Racing che corre bene ma non benissimo. Al quarto Uragano 3B che paga il gran strappo iniziale. Ancora una volta la dritta arrivo con Deimos Racing che è passato nei confronti di Uragano 3B ma si vede che non è più fresco a largo a Razzi Bocco, lo è di più, lo è anche testimonia all'ok che ottimo secondo, 2,3,10. E' partita la fase 2 del campionato europeo. Stacco della macchina con Pantera Del Pino e Satanassofi. Avanti a Tina Turner e Ulena Carr. Per linee esterne Deimos Racing. Pantera Del Pino in vantaggio dopo 200 metri di corsa in 3,19 aria in faccia. Satanassofi lungo i birilli, Tina Turner, Ulena Carr. Poi Deimos Racing che si avvicina sul passo del completamento del primo quarto di gara passato dalla leader in 28,7 da 1,12 scarso. Si va sulla seconda curva. Pantera Del Pino in vantaggio nei confronti della coppia composta. Tina Turner e Satanassofi. Quindi Ulena Carr che ha a destra Deimos Racing. Il completamento dei 600 passati in 44,7. La curva di sinistra in 16 viene via Deimos Racing. A gira Satanassofi si protende a lato di Pantera Del Pino che replica accelerando 14 davanti alle tribune. 58,8 al mezzo miglio iniziale. Pantera Del Pino e Deimos Racing in dibattito aperto nei confronti di Tina Turner per le vie brevi. Ulena Carr al pari di Tango Negro. Seconda pareglia ai fuori per Satanassofi. Poi Tarim si va dopo un chilometro in 1,13 appena abbondante con Pantera Del Pino e Deimos Racing. Alle prese 500 per venire a casa. La mossa in mezzo alla pista di Uragano 3B. Quando si va ai tre quarti miglio in 1,27. Deimos Racing attacca Pantera Del Pino. Lungo i birilli, Tina Turner, poi Tarim all'errore di Turragano 3B per le vie brevi. Ulena Carr, Deimos Racing che è passato in giustezza nei confronti di Pantera Del Pino. Poi Tina Turner, Ulena Carr, Deimos Racing che ha qualcosa in margine su Pantera Del Pino. Deimos Racing che vince davanti a Pantera Del Pino. Al terzo Tina Turner, 1,56, aria in faccia, 1,12,3, la media al chilometro. Il successo di Deimos Racing su una davvero ottima Pantera Del Pino che ci ha provato sino in fondo. Deimos Racing in fondo guadagna quel collo decisivo che diventa mezza nel tratto ultimo. Il numero 3 sul tabellone al primo posto, Enrico Bellei, Eric Bondo, Caramera, Abe vanno in finale. A Razzi Bocco contro Deimos Racing al secondo termina Pantera Del Pino. Al terzo Tina Turner. Stacco della macchina con Razzi Bocco che prende il comando delle operazioni. Deimos Racing che rimane al suo esterno, almeno per i primi 150 metri di corsa, rimane lì a traccheggiare all'altezza del solchio dell'avversario. Non gli dà tregua, troppa, non gli permette di riprendere troppo in mano i 200 metri iniziali in 14,5. A Razzi Bocco battistrada, Deimos Racing all'esterno. Questo è il cliché tattico deciso da Enrico Bellei, una volta constatata la superiorità di a Razzi Bocco dietro le ali. 28,2, 400 metri iniziali da 1,10 e 5. Cerca di giocare sulle proprie caratteristiche. Deimos Racing, quell'altro al vantaggio della corda. 42,5 e 600 metri iniziali. Se le danno a Razzi Bocco e Deimos Racing a traguardo lontano. Si va a un giro dalla conclusione, i due divisi sempre da tre quarti di lunghezza. Uno sempre alla corda, l'altro sempre a largo. 56, spaccato gli 800 metri iniziali. Il secondo quarto più veloce del primo. 27,9 contro 28,2. Ora si butta in corda Deimos Racing quando il chilometro si è andato. in 1,10 e 1. A Razzi Bocco a 1,25 di margine nei confronti di Deimos Racing. A 500 metri dalla conclusione del campionato europeo. A Razzi Bocco che allunga, mette assieme 1,200 in 1,24 e 2,14 e 1. La dritta in là, 28 e 1. La terza frazione con Razzi Bocco che ha due lunghezze e mezza di margine nei confronti di Deimos Racing. all'ingresso della dritta arrivo, 14 e mezzo. Anche l'ultimo paletto della curva. A Razzi se n'è andato da Deimos Racing. Va anche per il ciocco cronometrico. A Razzi Bocco, frusta in spalla. Frustino al cielo. 1,10 e 4. Due record nella se stessa serata. A Razzi Bocco e Alessandro Gocciadoro. Leonardo Cecchi, tutto il team. Targato giallo a Razzi Bocco. 1,10 e 4. Significa un secondo meno rispetto al record della pista precedente. Nove decimi meno rispetto a quello che aveva segnato non più tardi di un'ora fa, un'ora e mezza fa. A Razzi Bocco e Alessandro Gocciadoro. Merito a Deimos Racing e Enrico Bellay. Eric Bondo di averci provato dal primo fino all'ultimo dei metri possibili. Ma sul gradino più alto del campionato europeo va Alessandro Gocciadoro. Grazie a un super, super, super a Razzi Bocco. Grazie a tutti.